Fabrizio Montepara, lei come interpreta quest'opera di rinascita? È un'opera importante, rinascita significa riprendere vita e in questo momento è di grande confusione a livello mondiale se pensiamo al Covid, se pensiamo alle guerre, la guerra vicina a noi che è quella dell'Ucraina ma ci sono tante altre guerre sparse nel mondo che forse noi occidentali non sempre dedichiamo massima attenzione la guerra secondo me è altrettanto importante e fondamentale che sarebbe quella per la nutrizione per milioni di gente che non riesce ad avere un pasto, penso ai ragazzi e ai bambini quindi io penso che è un'opera che ingloba tutto questo viene realizzato nella città dell'Aquila che è sinonimo per noi abruzzesi veramente del momento della rinascita, quindi da una grande disgrazia dovuta al terremoto però la città è saputo risollevarsi e gli abruzzesi sono vicini a questa realtà del capoluogo di regione anzi ancora di più secondo me c'è stata questa unione, questo identificarsi col capoluogo di regione che è colpito così dalla sofferenza ma che oggi grazie anche a questo monumento torna a essere veramente motivo di speranza per tutte le comunità abruzzesi grazie mille